Si vede? Si perfetto Bella ragazzi, qui Elle e oggi Nuovo vlog, lo sto facendo di domenica Perché se lo faccio di lunedì non ho tempo E... Vabbè, iniziamo subito con le notizie Ho cancellato The Cave perché Si, sto bloccando troppi gameplay Perché era Arrivato un momento in cui era Mi stava ricoglionendo in troppo Infatti ce l'ho ancora qua Nel mio desk Non potete vedere E vabbè Cancellato The Cave, stiamo facendo sempre Devil May Cry Oggi ho finito La missione 16 Ho fatto i video fino alla missione 16 Che è tutto nuovo Per me, all'inizio della 16 Noto che avevo detto che L'avevo fatto Poi ho messo i giochi nell'Xbox Che ce ne abbiamo tanti, tanti I gameplay dovremmo fare I gameplay di The Darkness 2 E... Silent Hill Don't Purr E... devo vedere Un altro gioco Si Zone of the Enders HD Collection Forse Se riesco a capire come cazzo funziona O... Metal Gear Rising Quindi di giochi ce ne abbiamo tanti Poi per il computer abbiamo Scrivenduts E... Madfather Che è il cortino Abbiamo ancora un bel po' di Slender E abbiamo due giochetti Anticamber e Cat Mario Sono semplici Vabbè Vabbè i giochi sono così Half-Life Ho appena finito di fare la Puntata 9 Sì Insieme a The Darkness 99 Andato via da poco Quindi Vabbè Oggi caricherò la 7 Domenica 18.44 Ok E... Vabbè Faccio il vlog adesso So che L'ultimo vlog l'ho fatto alla cazzo di cane Perché Non avevo tempo Dovevo fare un... Un misero vlog Proprio un misero però Vabbè Scusate per il piccolo vlog Che è arrivato 8 pagine su Autosanestreet Eh Però non sono scappato No Non sono scappato Questo è brutto Non si scappa Eh già E volevo dire per me E vabbè Dopo queste notizioni Un po' stupidine Un po' deficienti Direi di stoppare qua il video Se vi è piaciuto mettete mi piace Scrivete un commento Scrivetevi alla pagina di Youtube E Al prossimo vlog